Nel pomeriggio del 12 luglio personale della questura ha dato esecuzione al dispositivo firmato dal questore, con il quale veniva disposta la chiusura per giorni 15 di un esercizio commerciale adibito alla ristorazione e somministrazione al pubblico in zona autostazione. Il provvedimento si è reso necessario in seguito ad una serie di eventi avvenuti nella notte tra l'8 e il 9 luglio scorsi che hanno creato gravi turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica. Se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.